Benvenuti al webinar di questa mattina, salutiamo tutti i partecipanti connessi, vi chiediamo un feedback audio-video, inviateci segnalazioni nel caso in cui ci fossero problemi di audio e di video, provvederemo a rispondervi utilizzando le chat in privato, all'interno delle chat vi inseriremo i link per scaricare a partire da domani l'intera registrazione e le slide dei nostri relatori, i relatori che come potete vedere dalle nostre webcam sono l'ingegneri Morali, dirigente del settore programmazione e sviluppo del territorio del comune di Rosignano Marittimo e il dottor Claudio Lucidi, esperto in materia di appalti e coordinatore del ciclo di eventi dedicato al nuovo codice dei contratti pubblici. Vi diciamo già in anticipo che le eventuali domande che verranno in chat questa mattina saranno trattate alla fine dell'esposizione dei nostri relatori, per cui qualora ci fossero noi le metteremo a disposizione alla fine degli interventi per le eventuali risposte. Io non rubo altro tempo, passo la parola all'ingegneri Morali e auguro a tutti gli utenti un buon web, anzi passo la parola al dottor Lucidi per l'introduzione a questo seminario, prego. Sì, buongiorno, velocemente stamattina svolgeremo questo approfondimento in tandem, io con l'ingegnere Morali, lui la parte dedicata agli appalti, la parte dedicata alle concessioni, ai contratti di partenariato pubblico privato, anche se il titolo dei due articoli, dei corrispondenti articoli è similare, l'articolo 106 e l'articolo 175 parla di modifiche contrattuali, come vedremo nella realtà ci sono differenze enormi, sia con riferimento ai requisiti richiesti per procedere delle modificazioni, alle condizioni necessarie per procedere alle modifiche del contratto nell'appalto o nella concessione e anche con riferimento alle soluzioni a valle di una modifica contrattuale. Prima interverrà l'ingegnere Morali, quindi io non so se avremo tempo per rispondere a qualche domanda e probabilmente le domande su cui non riusciamo a rispondere stamattina saranno oggetto di un approfondimento specifico con un'altra webinar che faremo sull'argomento che è da programmare, quindi vedremo un attimo come andrà questa mattina la discussione. Prego Andrea, se vuoi iniziare? Buongiorno a tutti, l'argomento come ha detto il Dottor Lucidi, io tratterò la parte delle modifiche contrattuali negli appalti. Noi fino ad oggi, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 50, eravamo abituati a masticare la parola varianti in corso d'opera, sia per la parte dei lavori sia per la parte dei servizi e forniture ed erano regolamentati nell'ultimo codice dei contratti, nel 163, agli articoli da 114 a 117 e poi 132 soprattutto e 133 per quanto riguarda la revisione prezzi. Poi c'erano le parti legate al regolamento, gli articoli 161, 162 e 163. Analogamente lo era per i servizi e per le forniture con gli articoli da 114 a 117, nel 163 gli articoli 310 e 311 del DPR 207, però si parlava sempre di varianti e sempre norme di natura nazionale, mai di natura comunitaria. Perché ovviamente l'Unione Europea gli interessa la parte di concorrenza e quindi la parte degli affidamenti e quindi non si era mai occupata della fase dell'esecuzione del contratto, sennò che con le ultime direttive comunitarie si sono accorti che nella fase di esecuzione del contratto con le modifiche che potevano essere apportate al contratto, poteva essere farzata la concorrenza. Per cui per la prima volta l'Unione Europea è intervenuta nella fase di esecuzione del contratto, tanto che i primi 6-7 articoli del decreto legislativo 50, diciamo dell'articolo 106, non sono altro che un copia in colla dell'articolo 72 della direttiva comunitaria, quindi ricalcono fedelmente l'articolo 72 della direttiva comunitaria. Infatti passando subito all'articolo 106,1 che vediamo riportato qui proprio ricalca l'articolo 72,1 della direttiva e ci dice le modifiche nonché le varianti, quindi ha già una diversa terminologia, non solo varianti ma modifiche, modifiche cioè tutto ciò che può comportare una modifica del contratto, perché ci possono essere modifiche in cui rimane l'oggetto del contratto e il prezzo lo stesso ma cambia il tempo, oppure modifiche in cui cambia solamente il soggetto contraente e quindi ci sono diverse casistiche. Ecco perché la diversa terminologia che è passata da varianti a modifiche. Infatti l'articolo 106 ci dice che le modifiche nonché le varianti che sono cose distinte dei contratti di apparto devono essere autorizzate da Ruppe e poi approvate secondo l'ordinamento della stazione appartante e i contratti di apparto possono essere modificati senza una nuova procedura di appidamento nei seguenti casi. Quindi le modifiche sono contratti aggiuntivi oppure atti di sottomissione a seconda, vedremo dopo, le casistiche in cui non si fa una nuova procedura di gara ma si modifica il contratto e quindi con lo stesso soggetto. Andando ad analizzare le varie casistiche di modifiche del contratto, l'articolo 106,1 lettera A è una novità pressoché assoluta e qui in questa lettera, in questa parte si vede proprio la logica del diritto comunitario perché come ho detto prima l'articolo 106 va letto non tanto nella logica del diritto nazionale ma nella logica del diritto comunitario e qui infatti alla lettera A ci dà la possibilità di apportare delle modifiche al contratto senza limiti purché ci sia chiaro nei documenti a base di gara le modifiche che io vado a fare. Tali clausole devono essere fissare la natura ed eventuali modifiche nonché le condizioni per le quali possono essere impiegate e devono essere perfettamente chiare, precise e inequivocabili come dice inserite nei documenti di gara in maniera tale che i concorrenti sappiano fin dall'inizio le modifiche che io potrò apportare e quindi non venga falsata la concorrenza. Queste modifiche possono riguardare anche la revisione prezzi, infatti che possono comprendere clausole di revisione prezzi, quindi in questo articolo 106,1 lettera A ci sta anche la parte del vecchio articolo 133 del 163 sulla revisione prezzi. Poi c'è un riferimento ai lavori e invece per i servizi e le forniture fa un richiamo all'articolo 1,511 della legge di stabilità del 2016 e sarebbe la 208 del 2015 che in pratica stabilisce qui lo scritto in corsivo che riguarda i contratti continuativi o periodici con possibilità di revisione prezzi e anche qui con l'alea del 10% come nei lavori. La lettera B invece parla di lavori servizi o forniture supplementari che sono un po' simili diciamo ai lavori complementari che erano nel vecchio 57,5 del 163 ma che è un po' diverso qui. in questo caso qui le necessità che possono rendere le cause che possono rendere necessaria la modifica non sono legate a cause impreviste e imprevedibili come era nel 57 ma sono un pochino più vaghe, ci sono resi necessari e non erano inclusi nell'apparto iniziale e quindi si dà lo stesso soggetto perché sussistono queste due condizioni, la 1 e la 2 che devono coesistere contemporaneamente. Uno che risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti, forniti nell'ambito della parte iniziale, che posso dire, faccio un esempio, io ho delle forniture, delle apparecchiature di una tipologia, mi si rende necessario implementare questa fornitura, è inutile che metta un'altra tipologia di queste apparecchiature perché altrimenti avrei dei costi o di manutenzione difficile o anche addirittura di funzionamento proprio legato all'interoperabilità, pensiamo ad alcuni sistemi informatici che poi non possono essere interoperabili tra di loro. L'altra condizione che deve sussistere è che l'eventuale aggiudicazione a un altro soggetto comporti dei disguidi o duplicazioni di costi. Ecco che però siccome in questa casistica qui della lettera B non c'è una chiarezza fin dall'inizio della gara, come era nella lettera A, ecco che allora al comma 7 c'è stato scritto, sempre dell'articolo 106, nei casi di cui al comma 1 lettera B, e poi vediamo anche la scippa di settori ordinari, può essere modificato l'eventuale aumento di prezzo che non eccede il 50%, quindi viene posto un limite, mentre nella lettera A non c'era nessun limite, qui c'è un limite. Poi vedremo anche, e questo è sempre la direttiva comunitaria, perché l'articolo 106,7 è sempre mutuato dalla direttiva comunitaria. Poi vedremo a livello nazionale, sulla lettera B, gli ulteriori problemi che ci possono essere per le restrizioni, in quanto come ho detto all'inizio non è chiaro fin da subito in fase di gara che si va a fare una modifica del contratto e quindi qui c'è una maggiore attenzione da parte anche di ANAC e ovviamente dei limiti. La lettera C in pratica, anche questa che è ricavata dall'articolo 72 della direttiva comunitaria, però questa qui è all'incirca, ricalca il vecchio articolo 132,1 del 163 e infatti qui ci dice che quando sono soddisfatte queste condizioni con i limiti del comma 7 che abbiamo visto che è il 50% del contratto originario e dice che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione o per l'ente aggiudiatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Ecco, quindi tutto ciò che noi fino a ieri avevamo utilizzato come denominato varianti, abbiamo detto delle varianti, oggi è limitato alla sola lettera C dell'articolo 106. Se poi andiamo a vedere le circostanze, può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e regolamentali, che era la vecchia lettera A del 163. Provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela degli interessi rilevanti e era la vecchia lettera Bb se poi diventata C del 132. Ovviamente le circostanze impreviste e imprevedibili lì era la vecchia lettera B dell'articolo 1 del 132. L'altra condizione affinché possa essere fatta questa variante è che la modifica non arte la natura generale del contratto e questo è ovvio, sempre nella natura delle varianti non poteva essere snaturato il contratto, questo è sempre stato. Anche qui come potete vedere il comma 7 dell'articolo 106 limita al 50% l'importo della variante. Ecco, sul discorso della cogenza di questo limite dell'articolo 106,7 perché parla del limite del 50% c'è una distonia con l'articolo 108 perché all'articolo 106,7 sembrerebbe che il limite del 50% fosse un limite invalicabile e poi a parte in caso di modifiche successive tale limite si applica al valore di ciascuna modifiche e quindi questo c'è un limite ben preciso, sembrerebbe oltre il quale se dovesse andare alla risoluzione del contratto. Invece l'articolo 108 che parla di risoluzione del contratto invece dice che le stazioni appaltanti possono risolvere, mentre se uno va a vedere il comma 2 dell'articolo 108 si vede che le stazioni appaltanti devono risolvere il contratto. Quindi questa formula opzionale di dire possono, sembrerebbe che questo 50% potesse ben o male essere superato, ma motivatamente. comunque il suggerimento è quello di non superare il 50%. L'altro punto dell'articolo 106 è la lettera D che questo, anche questo che rientra dalla direttiva comunitaria, però qui è quando, come ho detto all'inizio, è la casistica in cui rimane fermo il contratto, l'oggetto del contratto, rimane fermo il prezzo, ma cambia il soggetto contraente e qui vengono elencate le casistiche in cui il cambio del soggetto contraente non comporta la necessità di andare a una nuova procedura di aggiudicazione, a una nuova procedura concorsuale e sono le cause che erano anche nel 163, sono le cause delle ristrutturazioni e trasformazioni societarie oppure morte del, in caso di ditte individuali, morte del vecchio titolare. Comunque ci sono tutte le trasformazioni societarie, fusioni, scissioni, acquisizioni. Al di fuori di queste casistiche qui, ovviamente, entreremo in una logica di cessione del contratto che è vietata, quindi solo in queste casistiche indicate alla lettera D è possibile modificare il soggetto contraente senza necessità di andare a una nuova procedura concorsuale. L'ultimo è la lettera E, l'ultima casistica è la lettera E. Anche questa è nuova, che deriva dalla disciplina comunitaria, dice che se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4, le stazioni appaltanti possono stabilire nell'augumento di gara, soglia di importi per consentire le modifiche. Io per esempio, nei contratti che faccio nel mio ente, utilizzo questo punto, questa lettera E, per far rientrare dalla finestra quel famoso 5% che c'era nel vecchio articolo 132,3 del 163, che è sparito, il famoso 5% che era sempre ammesso è sparito e, ben o male, può essere reinserito utilizzando la casistica della lettera E. Basta, a mio avviso, mettere nel essere chiari nel disciplinare di gara o nella lettera di invito e nello schema di contratto allegato al progetto, di essere chiari e di dire che la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto che si rendano necessarie opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere nei limiti del, io ci ho messo un 10% indicativo, uno ci può mettere di più, uno ci può mettere di meno dell'importo contrattuale. Una cosa è certa, è inutile mettere limiti molto elevati perché c'è sempre il rispetto del comma 4, quindi che è quello che stabilisce quali sono le modifiche sostanziali e quindi ovviamente tra le modifiche, dopo l'andremo a vedere, tra le modifiche sostanziali c'è quella in cui la modifica o la variante che io vado ad apportare non mi può cambiare le condizioni di partenza della gara, quindi se io incremento notevolmente l'importo contrattuale, incremento le categorie che mi porterebbero ad avere una diversa composizione dei requisiti di accesso alla gara, è ovvio che la variante diventa sostanziale e questo non è più applicabile, quindi è inutile mettere limiti esagerati ma è opportuno mettere dei limiti bassi e ci possono consentire questa possibilità. Infatti ho riportato subito il comma 4 dove si elencano le casistiche in cui la variante è sostanziale e quindi quella lettera E la possiamo utilizzare solo se stiamo dentro e devono coesistere tutti questi 4 punti del comma 4 che come vedete la modifica introduce condizioni che se fossero state contenute nella procedura a parte iniziale avrebbero consentito l'ammissione di candidati o operetti diversi da quelli inizialmente selezionati oppure che la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto notevolmente a favore dell'aggiudicatario, la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o se un nuovo contratto sostituisce quello diverso dalla lettera D, quindi alla fine dei conti possono essere delle piccole modifiche del contratto di importo contrattuale che stanno diciamo in un range anche qualitativo della tipologia degli interventi da fare abbastanza ristretto perché devono essere rispettati contestualmente tutti questi punti. Un altro punto, un'altra possibilità di apportare modifiche al contratto è che questo a comma 2 è stato sensibilmente modificato con il correttivo perché nella stessura originaria del 50 il comma 2 era limitato esclusivamente alle varianti e alle modifiche legate ad errori di progettazione. Invece con il correttivo è stato completamente riscritto e dà una possibilità senza tanti vincoli dove dice che i contratti possono essere modificati oltre a quanto previsto dal comma 1 senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è risotto di entrambi i seguenti valori, le soglie fissate dall'attivolo 35 quindi sono le soglie comunitarie 5 milioni e 2 qualcosa per i lavori e 200 qualcosa per i servizi e le forniture, ma è ovvio che questo limite vale solo per gli appalti grossi, oppure il 10% nel caso di contratti di servizi e forniture e il 15% nel caso di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva dell'accordo o del contratto dell'accordo quadro, quindi sembrerebbe da una prima lettura che quel vecchio 5% che era nell'articolo 132,3 e quindi 5% libero sempre ammissibile sia diventato il 15% per i lavori e il 10% per i servizi e forniture. Uno potrebbe dire, ma allora perché mai prima citato la lettera E? Eh, e a mio avviso è preferibile andare sulla lettera E anziché sul comma 2 per il semplice fatto che al comma 8 dell'articolo 106, non so se volutamente o se per una svista quando hanno fatto il correttivo hanno modificato il comma 2 e conseguentemente non hanno modificato il comma 8, perché ovviamente come vi dicevo prima il comma 2 era legato solo nella versione originale del codice era legato esclusivamente alle varianti per errore progettuale, cosa succede? Se uno utilizza il comma 1 lettera B, che è quello dei lavori e forniture supplementari che vi avevo detto prima, che anche lì si rendono necessari, boh non si sa per cosa, e il comma 2 anziché mandare le varianti o le modifiche al contratto all'osservatorio come tutto, queste qui vanno mandate direttamente all'ANAC, quindi vuol dire che se uno utilizza la lettera B o il comma 2 c'è una maggiore attenzione da parte dell'ANAC e quindi vedete anche tutte le clausole sanzionatorie poi previste dall'ANAC. Scusa se ti intervengo, sempre sulla distinzione tra la variante di quella lettera E del primo comma e del comma 4 sempre del 106, non può essere anche una interpretazione di questo tipo, la lettera E si applica a prescindere dal valore del contratto, per tutti i contratti se la modifica non è sostanziale, quindi anche sopra soglia, invece quando parliamo del comma 4, il comma 4 ci dice che per procedere a una variante devono ricorrere contemporaneamente tutte e due le condizioni di cui la lettera A e B, cioè deve essere sotto la soglia europea e contemporaneamente non superiore al 10 o al 15, quindi la lettera E ha una portata generale, più ampia e invece in questo caso il comma 2 si riferisce invece esclusivamente a quando ricordano quelle condizioni, quindi per importi tra virgolette più limitati, sei d'accordo? Sì sì, ecco sì, sono più limitati, però come dicevo prima c'è, non so se volutamente o perché è sfuggito, rimane questa comunicazione come una sorta di maggiore attenzione da parte di ANAC quando uno utilizza il comma 2 o utilizza comma 1 lettera B, mentre sulla lettera E non c'è questa particolare attenzione da parte di ANAC. Qui sul comma 5 c'è, anche questo è derivato dalla direttiva comunitaria, all'obbligo di pubblicità delle modifiche al contratto fatte, ovviamente se siamo sopra soglia unitaria comunitaria deve essere fatta sulla gazzetta dell'Unione Europea, nei casi di cui alle lettere B e C e per quelle invece di importo inferiore della soglia viene in ambito nazionale, anche qui in ambito nazionale non è chiaro qual è il tipo, ma a mio avviso è la stessa pubblicità che deve essere fatta, che viene utilizzata nel caso di quando viene fatta la procedura di gara, quindi se io faccio la procedura di gara e sono sotto un certo importo in cui è sufficiente la pubblicità nell'ambito del profilo del committente, anche per le varianti a mio avviso rimaniamo, quando siamo in quella fascia lì, rimaniamo su quella stessa tipologia di pubblicità, se la pubblicità in fase di gara dovesse essere fatta sulla gazzetta ufficiale è ovvio che a questo punto, per analogia anche se io faccio una variante la devo riportare sulla gazzetta ufficiale, quindi a mio avviso, anche se qui non c'è scritto l'interpretazione potrebbe essere quella che la forma di pubblicità deve essere la stessa che è stata utilizzata per la procedura di gara. Ovviamente il comma 6 dice che qualora siamo al di fuori dei commi 1 e 2 dell'articolo 106 deve essere fatta una nuova procedura di gara. Il 107 l'abbiamo visto con il limite del 50%, il comma 8 l'abbiamo visto per quanto riguarda le modifiche di cui ha il comma 1, lettera B e il comma 2 che devono essere inviate all'ANAC e non direttamente all'ANAC che hanno l'osservatorio, ecco dal comma 9 in poi rientriamo in una normativa di carattere nazionale, cioè non è più mutuata la direttiva comunitaria e qui viene ripreso al 106,9 viene ripreso il comma 2 dell'articolo 132 che i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili ovviamente degli varianti rese per errori di progettazione, questo è una slide che è andata e doppia, al comma 10 anche qui c'è un'altra tipologia ripresa dal 132 e è la definizione dell'errore progettuale che si considera errore o omissione di progettazione all'inadeguata valutazione del stato di fatto ma che in pratica se lo andate a vedere con il comma 6 del 132 è un copia in colla il 106,11 riguarda le proroghe attenzione proroga e non rinnovo che è ben diverso e qui dice la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appartante quindi perché ho detto proroga e non rinnovo? Perché la proroga è un mero spostamento del tempo ma devono rimanere fissi quindi non si ricontratta niente devono rimanere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e lo stesso per poter esercitare questa possibilità di proroga deve essere inserita nei documenti di gara che la proroga è ben diversa dal rinnovo in quanto il rinnovo diventa un nuovo contratto ma non è una modifica del contratto ma diventa un nuovo contratto e può essere ricontrattato anche alcune patti e condizioni quindi per la proroga è essenziale in particolare nei contratti di servizi è essenziale che sia indicato nel documento di gara e se uno va a vedere il bandotipo dell'ANAC vede che gli importi legati alle proroghe o agli eventuali rinnovi devono essere considerati ai fini della valutazione della soglia da applicare l'articolo 106,12 è quello che riporta il quinto d'obbligo noi il quinto d'obbligo eravamo abituati a vederlo sempre nelle norme regolamentari sia nel 207 che nel 554 prima nel regolamento del 1895 addirittura perché era supportato a livello legislativo sempre dall'articolo 344 della legge fondamentale quelle dell'unità d'Italia del 1248 al 1865 siccome il codice dei contratti se andate a vedere all'articolo 207 ha abrogato l'articolo 344 di questa legge V ecco che il famoso quinto d'obbligo da norma di natura regolamentare è divenuta norma di rango primario e quindi è venuta proprio nell'articolo 106,12 quindi se uno fa delle modifiche al contratto all'interno del quinto dell'importo contrattuale stesso ecco che le può imporre all'appartatore agli stessi parti e condizioni del contratto originario se uno ovviamente va di fuori del quinto l'appartatore può ricontrattare le condizioni il comma 13 vabbè qui c'è la tracciabilità ci sono tutte le comunicazioni e il comma 14 è quello legato alle comunicazioni all'osservatorio e all'ANAC su questi non mi soffermo ma vado perché il tempo stringe perché gran parte delle disposizioni legate alle varianti o alle modifiche del contratto erano nel 207 che come avrete avuto occasione di vedere tutti gli articoli che riguardano le varianti sono stati completamente abrogati quindi ad oggi in fase transitoria siamo orfani dell'articolo 161 162 e 163 e gran parte di quei contenuti che sono negli articoli 161, 162 e 163 oppure nel 311 per quanto riguarda servizi e forniture andranno nel famoso decreto ministeriale di cui all'articolo 111 del codice che ad oggi ha fatto tutti i passaggi ma che non è ancora stato firmato dal ministro e quindi non è ancora valido e comunque ecco che nell'articolo 10 di questo futuro decreto ministeriale oppure per quanto riguarda lavori e nell'articolo 25 per quanto riguarda i servizi e le forniture demanda a Ruppe tutti gli accertamenti e è necessario valutare la legittimità della variante e il supporto da parte del direttore dei lavori lo stesso all'articolo 10,2 demanda al direttore dei lavori le motivazioni per poter fare le varianti e le responsabilità che ha lo stesso direttore dei lavori analogamente lo stesso accade per il direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture e che sono indicate all'articolo 25,2 di questo futuro decreto ministeriale lo stesso in caso di modifiche apportate dall'esecutore quindi l'obbligo di rimessa in pristino e c'è sia nel caso del direttore dei lavori che dei servizi e le forniture l'articolo 10 riguarda lavori 25 servizi e forniture qui c'è per quanto riguarda i lavori le varianti in diminuzione all'interno del quinto dell'importo contrattuale che sono sempre ammesse senza la possibilità di contestazione da parte dell'appartatore comeppure c'è il fatto che se siamo all'interno del quinto dell'importo contrattuale le variazioni viene fatto un atto di sottomissione anziché un contratto aggiuntivo se invece siamo al di sopra del quinto deve essere fatto un contratto aggiuntivo e qui sempre questo qui è l'analogo per i servizi e le forniture qui c'è la regolamentazione dei nuovi prezzi che erano il vecchio articolo 163 del 207 quindi come vengono fatti i nuovi prezzi in caso di varianti questo è l'analogo per quanto riguarda i servizi e le forniture ecco in questa bozza di decreto ministeriale è riportato le famose varianti non varianti che erano quelle indicate all'articolo 132,3 primo periodo del 163 erano le modifiche di dettaglio del direttore dei lavori che non costituivano variante ecco quella parte lì che era nel vecchio articolo 132 è stata riportata per quanto riguarda i lavori in questo articolo 10,7 invece nell'articolo 25,6 per i servizi e forniture e che ci dà la possibilità al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione di apportare quelle piccole modifiche di dettaglio che non comportano un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale qui ovviamente ci sono le varianti per i lavori viene ripreso le varianti migliorative su proposta dell'appartatore ecco qui l'ultima parte ci sono le ultime slide ci sono le parti dell'articolo 161 che non sono state recepite nel DM e qui c'è tutta la parte in cui se si supera il quinto dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento ne doveva dare comunicazione all'esecuzore ecco per chiudere tutte queste parti che non saranno recepite nel nuovo DM e che non sono nel codice dovranno essere qualora di interesse dovranno essere oggetto di natura contrattuale quindi dovranno essere inserite nei capitolati speciali d'apparto o nei contratti di apparto perché queste parti qui che prima erano di natura regolamentare dovranno divenire norme di natura contrattuale quindi da regolamentare nel contratto come pure tutte quelle disposizioni che ho letto fino ad ora che andranno nel decreto ministeriale e che però ad oggi sono abrogate perché erano nel 207 e non ci sono quindi in questa fase transitoria in cui non c'è ancora il decreto ministeriale noi le potremmo utilizzare solo se le inseriamo a livello contrattuale nel capitolato speciale d'apparto o nello schema di contratto quindi le norme di natura regolamentare del 207 che oggi sono abrogate se le vogliamo utilizzare le dobbiamo inserire all'interno del contratto per renderle norme di natura contrattuale ecco con questo ho chiuso passo la parola al dottor Lucidi sì grazie grazie Andrea ovviamente ci sono tante domande e tanti quesiti abbiamo detto inizialmente vediamo se nel corso dell'illustrazione su qualcuno riusciamo a ritornarci e le altre saranno oggetto di un approfondimento e di un focus di un webinar specifico allora dopo questa prima illustrazione fatta appunto da Andrea che ringrazio io dovrei diciamo invece vedere il corrispondente articolo 175 che trova applicazione nella parte terza del codice quindi nella parte che disciplina le concessioni però come dicevo inizialmente nei contratti di concessione di partenariato pubblico privato la tematica delle variazioni contrattuali assume una fisionomia diversa rispetto all'analoga disciplina prevista per gli appalti ovviamente ci troviamo di fronte a delle precondizioni che sono valide soltanto nel caso dei contratti di partenariato e di concessione e non anche nel caso dei contratti di appalto ora sono arrivate anche delle domande specifiche su quali condizioni si può modificare un contratto di partenariato ovviamente non riusciremo a entrare nello specifico però a me quello che preme è cercare di trasmettere attraverso questo approfondimento alcuni concetti che poi possono aiutarci nella pratica quotidiana quando bisogna calarsi nelle singole situazioni e quindi mantenere un po' la bussola del percorso che comunque bisogna tenere obbligatoriamente perché dico che nei contratti intanto diciamo che il tema delle modifiche contrattuali è molto importante nei contratti di concessione e di partenariato perché essendo contratti che per natura sono di carattere pluriennale ovviamente diciamo il ricorso a modifiche è maggiore rispetto a interventi puntuali che iniziano e finiscono diciamo con un collaudo siccome ci troviamo spesso e volentieri di fronte a contratti di durata pluriennale le modifiche riguardano tutta la fase contrattuale quindi anche la fase diciamo gestionale che può essere diciamo relativa relativizzata alla fase gestionale stessa ma può anche comprendere modifiche rispetto all'opera che è stata realizzata necessaria per erogare il servizio e l'altra condizione l'altra prerequisizione l'altra precondizione è che questo dovrebbe essere un faro è che comunque qualsiasi modifica al contratto nei casi di concessione di partenariato pubblico privato qualsiasi modifica non deve impedire o evitare o ridurre o mitigare il trasferimento del rischio operativo in capo al soggetto privato questo è un po' il faro che bisogna seguire la luce che bisogna sempre tenere accesa quando parliamo di modifiche nei contratti di concessione di partenariato pubblico privato perché è molto facile che laddove si interviene durante la vigenza e l'efficacia del contratto possano crearsi delle condizioni che differiscono rispetto rispetto all'impostazione originaria quando il rischio era stato messo in capo al soggetto privato parlo di rischio di costruzione e di rischio ovviamente in fase gestionale di domanda o di disponibilità cioè il rischio di costruzione non può in alcun modo essere attudito o mitigato attraverso modifiche successive al contratto originario ma prima di entrare nello specifico degli aspetti a me preme capire perché non è molto chiaro su questo la norma quale sono le norme di riferimento e se c'è un principio di esclusività per cui nelle concessioni si applica soltanto ad esempio l'articolo 175 che disciplina le modifiche contrattuali nei contratti di concessione e per rispondere a questa domanda cioè se sono tenuto ad applicare solo l'articolo 175 e non anche il 106 che invece riguarda le modifiche sugli appalti per capire se in qualche modo alcune modifiche interagiscono con diciamo anche con i contratti di concessione e partenariato devo leggere quello che dice la norma e allora l'articolo 164 che appunto delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione dice nelle concessioni che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi aggiudicazione intesa in senso lato non limitato ovviamente alla sola fase di solo la fase di affidamento perché poi successivamente ci dirà ci chiarirà che va ricompresa anche la fase di esecuzione dice si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nella parte prima e nella parte seconda del presente codice l'articolo 106 che disciplina le modifiche nei contratti di apparto sta nella parte seconda quindi per quanto compatibili si aprono anche alcuni degli istituti regolamentati dal 106 anche nei contratti di concessione questo è diciamo una lettura come dire della norma e relativamente quindi non soltanto alle fasi di pubblicazione di azioni di bandi requisiti ma anche alle modalità di esecuzione questo ci dice il comma 2 dell'articolo 164 quindi trova applicazione l'articolo 175 modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia per le concessioni e parti dell'articolo 106 che ne risultano incompatibili con il predetto articolo e questo abbiamo parlato delle concessioni che come sapete si caratterizzano perché il rischio di domanda sostanzialmente è posto in capo a soggetto privato cioè vuol dire che la maggior parte dei ricavi generati la maggior parte dei ricavi sono generati dalla vendita sul mercato del servizio quindi quando ci troviamo normalmente di fronte a una pluralità di acquirenti allora andiamo a vedere cosa dice invece il caso del cosa invece che cosa dice la parte quarta che disciplina diciamo un'altra metodologia un altro modo di eseguire opere o fornire servizi ricorrendo a risorse private che sono appunto la più ampia categoria dei contratti di partenariato pubblico privato all'interno del quale peraltro ci rientra anche la concessione anche qui andando a leggere l'articolo 179 qui il riferimento alle parti del codice che trova un'applicazione rispetto al precedente articolo 164 è più ampia perché dice si applicano le disposizioni di cui ha la parte prima terza quinta e sesta ovviamente sempre in quanto compatibili e poi a comma 2 ci dice nonché le ulteriori disposizioni della parte seconda indicate all'articolo 164 comma 2 quindi poi dice le disposizioni della presente parte si apre con quanto compatibile anche i servizi ergo inoltre l'articolo 180 ci dice appunto che al comma 8 che tra i contratti di partenariato ci rientra anche la concessione di costruzione e gestione quindi anche per i contratti di partenariato pubblico privato proprio da una lettura combinata di queste disposizioni e soprattutto il comma 2 dell'articolo 179 che rimanda all'articolo 164 comma 2 quello sulle concessioni ci induce a ritenere che anche nel caso di contratti di partenariato pubblico privato si applica l'articolo 175 e parti dell'articolo 106 che non risultano incompatibili col predetto articolo quindi non ci troviamo di fronte soltanto a una non c'è un'esclusività con riferimento all'articolo che deve disciplinare questo è che è l'articolo 175 ma bisogna anche andare a capire quale di quelle parti dell'articolo 106 che sono state fino adesso illustrate dall'ingegnare immorale in qualche modo possono interagire anche con i contratti di concessione e di partenariato e quindi quali sono le parti dell'articolo 106 che trovano applicazioni vediamole io ho provato a scorrere quindi mi sono fatto diciamo questa opinione sicuramente il ruolo che il responsabile unico del procedimento deve svolgere in questa attività soprattutto in relazione al momento in cui si devono approvare le eventuali modifiche perché dico questo dico questo perché il primo comma ci dice che le modifiche non che l'ultimo comma dell'articolo 106 ci dice che le modifiche non che le varianti in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante se parlo da leggere l'articolo 31 del codice le funzioni il ruolo delle funzioni del responsabile del procedimento c'è scritto negli appalti e nelle concessioni quindi si desume che il responsabile del procedimento dalla lettura dell'articolo 31 deve svolgere una funzione diciamo di controllo e in questo caso autorizzativo nel caso in cui si troviamo di fronte a modifiche contrattuali dopodiché le stesse linee guida numero 3 sul RUP dice nel titolo nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni quindi di nuovo l'ambito diciamo di intervento del RUP si estende sempre alle concessioni e quindi a mio avviso diciamo ci rientra non è incompatibile e compatibile è come insomma non dimentichiamo poi che insomma questo codice con riferimento ai contratti di concessione e contratti di partenariato peraltro anche il decreto che sta per essere il decreto sulla direzione lavori sul ruolo del direttore di lavoro e direttore dell'esecuzione ce lo dice a differenza diciamo della previgente disciplina non tanto di carattere normativo quanto piuttosto di carattere indicativo cioè attraverso atti adottati dall'allora autorità di vigilanza sui contratti pubblici in qualche maniera si tendeva a considerare le concessioni io voglio chiamare così per opere calde qualcosa di diverso da quelle che potranno essere concessioni di opere fredde cioè destinate alla pubblica amministrazione tanto è vero che si diceva che il direttore dei lavori in quei casi poteva essere nominato direttamente dal concessionario il nuovo codice ribalta completamente questa impostazione e anche nel decreto sulla direzione dei lavori si stabilisce che il direttore dei lavori deve in ogni caso essere designato dall'ente concedente anche nelle concessioni nei contratti di partenariato pubblico privato e quindi come dire si vuole la motivazione perché si tratta sempre di opere dei servizi pubblici e quindi il legislatore in questo senso vuole risaltare la funzione di controllo da parte dell'ente pubblico anche laddove sono previsti finanziamenti la realizzazione di investimenti con finanziamenti a carico di soggetti privati quindi il ruolo del RUP credo che sia uno di quelli peraltro previsto dal primo comma dell'articolo 106 è uno di quelle parti dell'articolo 106 che trova applicazione anche nell'articolo 175 trova applicazione anche perché non non è citato come citato nell'articolo 106 la causa legittimante la modifica derivante dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislativo reglamentari o provvedimenti di autorità o denti preposti alla tutela di interessi rilevanti cioè il primo comma della lettera C dell'articolo 106 perché se io mi vado a leggere la corrispondente l'articolo 175 non c'è più questo richiamo ma credo che essendo un fatto di sopravvenienza che deriva da disposizioni legislative quindi da atti emanati da autorità come dire sovraordinate e che in qualche maniera non possono essere imputabili a nessuna delle parti ecco diciamo anche in questo caso questa causa legittimante a mio avviso trova applicazione perché è compatibile con l'articolo 175 e comunque in generale con il VAT trova ancora trova applicazione quindi non so se è una svista la pubblicazione solo in ambito nazionale delle modifiche laddove il valore del contratto è inferiore alle soglie dell'articolo 35,5 cioè mentre nel caso degli appalti c'è scritto che se devo fare una modifica il cui valore relativo a un contratto il cui valore è inferiore alle soglie di quello dell'articolo 35 ma è sufficiente che faccia una pubblicazione solo in ambito nazionale se invece mi vado a leggere l'articolo 175 pare che questa possibilità di ricorrere all'ambito nazionale non viene meno e quindi dovrei pubblicare in gazzetta europea tutte le modifiche anche se si tratta di modifiche di importo relativo credo che su questo si tratti vale il principio generale sul valore degli appalti e quindi si possa tranquillamente fare ricorso a quanto stabilito dall'articolo 106 in materia di pubblicità e sempre discorrendo sulle parti che possono trovare applicazione poi l'obbligo di comunicazione all'ANAC delle modifiche quanto ricorrono scusate un attimo che l'obbligo di comunicazione all'ANAC delle modifiche quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1 lettera B dell'articolo 175 lavori o servizi supplementari quindi qui ci diciamo un problema di impaginazione quindi si trova applicazione anche l'obbligo di comunicazione all'ANAC delle modifiche quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1 lettera B dell'articolo 175 non è incompatibile con quanto stabilito appunto dal medesimo articolo trova applicazione anche l'articolo 8 lavori o servizi supplementari già previsti nel caso dell'appalto e che in qualche modo possono essere con le modalità diciamo stabilite dal comma 8 dell'articolo 106 la previsione di una proroga tecnica comma 11 la cessione dei crediti comma 13 e poi la trasmissione all'osservatorio ecco questo è un aspetto su cui ci hanno fatto delle domande io vedo se riesco anche a rispondere un attimo solo la trasmissione all'osservatorio regionale delle varianti in corso d'opera per le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria e di quelle le varianti di importo pari inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relativo al contratto di importo pari o superiore alla soglia comunitaria stiamo parlando del comma 14 il comma 14 è scritto in modo un po' scritto perché io vorrei un attimo ritornarci qui mi sta dicendo che l'obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera mi dice il comma 14 dell'artigo 106 vale e quindi questa comunicazione deve essere trasmessa all'osservatorio regionale che come diceva prima l'ingegnere Morali diciamo è una forma di esercizio anche del controllo un po' più mitigata rispetto al controllo che invece come vedremo esercita l'ANAC nel caso in cui le varianti sono di importo superiore al 10% e il contratto è superiore al valore della soglia europea quindi qui stiamo dicendo che le varianti in corso d'opera per le concessioni il cui valore è sotto 5 milioni e 200 e passa per la pesca quant'è la soglia per le concessioni e di quelle varianti di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria quindi abbiamo contratti con valore in assoluto inferiore alla soglia comunitaria e varianti sotto il 10% purché ancorché riferiti a contratti di valore sopra la soglia in questi casi le varianti vanno comunicate all'osservatorio regionale invece vanno comunicate all'ANAC le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore originario del contratto per i contratti il cui valore comunque iniziale era superiore alla soglia comunitaria in questi casi bisogna anche trasmettere il progetto esecutivo proprio perché l'ANAC esercita una funzione di controllo più puntuale queste parti dell'articolo 106 il comma 14 a mio avviso trova un'applicazione anche nel caso in cui si rigora le varianti in corso d'opera nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico privato e quindi qui poi andiamo a vedere i casi in cui il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi dice l'articolo 175 in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175 comma 1 e 4 del codice modifiche previste nei documenti di gara iniziali in questo caso bisognerà specificare in dettaglio delle clausole chiare precise e inibugabili del bando del disciplinare al capitolato speciale che in qualche modo mi consentono di ricorrere a modificare in corso di efficacia il contratto cioè lo devo prevedere inizialmente ho visto che una domanda diceva ma se io prevedo di utilizzare il ribasso di aggiudicazione questo magari e quindi sì secondo me c'è uno di quei casi in cui non è tanto il caso delle concessioni ma il caso dell'appalto la possibilità di prevedere fin dall'inizio e quello è un titolo legittimante diciamo a consentire magari scusa se ti interrompo visto tra queste domande c'era il classico era il comma 14 e che l'hai già chiarito te molto bene e il discorso della possibilità di utilizzo del ribasso d'asta ora se uno va a leggere la lettera se è possibile tornare sulle mie slide andare e va a vedere la il 106 comma 1 lettera A si vede che A comma A C B A ecco dice le modifiche a prescindere dal loro valore monetario sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare precise e inequivocabili quindi il fatto che il ribasso d'asta noi non sappiamo quanto è e come lo possiamo utilizzare perché non sapendo quanto è non sappiamo neanche la portata di come lo possiamo utilizzare anche se possiamo avere un'idea e quindi non possiamo avere queste clausole chiare precise e inequivocabili ecco io la lettera per fare un esempio la leggerei nel senso se devo fare una scuola per esempio faccio la scuola e poi che posso dire le sistemazioni esterne le faccio successivamente però ho già il progetto so già quanto costano e quindi dico che le sistemazioni esterne magari perché mi manca qualcosa per un esproprio oppure ho problemi di finanziamento che me li danno successivamente per le aree esterne quindi le aree esterne non le metto nel contratto iniziale della scuola ma dico guarda già in fase di gara e quindi sia nel capitolato e nello schema di contratto che addirittura nella lettera di invito nel disciplinare di gara perché deve essere anche come parla qui di documenti di gara dirò che io faccio una successivamente farò una modifica del contratto per fare le sistemazioni esterne che hanno questo importo e se uno va a vedere il bando tipo dei servizi e forniture vedrà che l'ANAC nel bando tipo ha scritto che nel caso della lettera A io devo valutare i requisiti anche per la lettera A già fin dalla gara iniziale perché riprendendo quell'esempio che ho detto delle sistemazioni esterne della scuola che magari sono uno S24 come categoria di lavorazione è ovvio che non dovendo fare una gara successivamente ma facendo una modifica del contratto anche se nella fase iniziale nel contratto originario io non ho lavori da OS24 io bisogna che chieda anche l'OS24 perché se no la ditta l'appartatore qualora non potrei fare la modifica del contratto perché l'appartatore non è qualificato quindi io devo avere la certezza degli importi e la certezza della tipologia che vado a fare io la logica dello sfruttamento del ribasso d'asta utilizzo la lettera E perché nella lettera E non mi parla di clausole chiare precise e inequivocabili la lettera E mi dice stabilisci un limite dice se le modifiche non sono sostanziali le stazioni appartanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche io qui siccome so che con il comma 4 non mi posso sbilanciare al di fuori delle categorie di lavoro e dei requisiti speciali che avevo in sede di gara perché se no andrei in contrasto con il comma 4 e quindi non potrei utilizzare la lettera E a quel punto io dico beh avrò un 20% circa 25% di ribassi 30 ve ne gioco un 10 un 15 per queste modifiche qui è un'opzione quindi io non ho necessità di avere a priori al momento in cui io faccio la gara di avere chiaro quello che voglio fare quindi io al momento della gara dico guarda io farò mi riservo la possibilità di incrementare l'importo contrattuale del 10% per migliorare la funzionalità o la qualità delle opere per questi specifici quindi è un'opzione non ho necessità di modificare di avere chiaro le categorie che poi dopo i requisiti speciali che poi devono essere perché l'articolo il comma 4 mi impone che devono essere rimanere quelli quindi io all'interno di questa piccola cifra io posso ovviamente giocarmi il ribasso d'asta io nel mio ente ecco utilizzo questa la lettera E proprio per un parziale ovviamente non l'intero recupero del ribasso d'asta ma intanto un parziale ribasso d'asta poi ovviamente se ci sono degli imprevisti o qualcos'altro si può utilizzare la lettera C e quindi beh non male ecco che però ecco la lettera non la vedo tagliata per utilizzare il ribasso d'asta perché occorre una certezza fin dall'inizio a meno che ecco uno non abbia fin dall'inizio che sa un importo abbastanza contenuto che sa che tanto il ribasso d'asta ovviamente è superiore perché in genere tanto ormai lo sappiamo io perlomeno nella mia zona vedo che se si fa l'esclusione automatica si viaggia sempre sul 27% orientativamente dal 26 al 28 30% quindi uno sa che orientativamente i ribassi possono essere di quell'ordine lì e se c'ha una parte che è contenuta all'interno di quell'importo probabilmente si può sbilanciare e utilizzare anche la lettera A però nella lettera A è da ricordarsi che deve essere chiaro le tipologie di lavorazione che si vanno a fare perché io devo ovviamente in sede di gara richiedere i requisiti anche per quella parte lì quindi può darsi che mi scatti la classe o addirittura mi comporti anche un cambio della categoria e oltretutto addirittura nelle bozze del decreto ministeriale che girava che giravano diciamo il decreto ministeriale quello sulla progettazione dell'ex articolo 23 ex articolo 23 del codice nell'articolo che andavano a regolamentare il quadro economico addirittura il ministero o le regioni mi sembra avevano inserito proprio le somme tra le somme a disposizione gli importi necessari per fare le modifiche di cura della lettera proprio perché la lettera ha necessità di certezza e di chiarezza fin dall'inizio negli importi e nelle tipologie di lavorazione se posso riandare con le mie slide io sono d'accordo su quello che dicevi Andrea cioè il fatto che la lettera mal si presta a modifiche laddove non riesce a determinare a priori in grosso modo appunto su una stima che puoi fare quanti sono ribassi quanti risume che puoi avere a disposizione sulla base di quello individuare i requisiti speciali da richiedere già fin dall'inizio all'operatore economico al concorrente che partecipa alla gara però faccio un presente io mi rendo conto che magari che poi uno parla in base diciamo alla propria esperienza personale che quella è una norma che si applica anche ai servizi e forniture quindi diciamo quello che tu dici è valido diciamo nel campo dei lavori diventa come dire un po' più meno restrittivo questa nella tua osservazione giusta nel campo dei servizi e forniture dove lì non c'è classifiche di importo cioè è un procedimento diciamo di individuazione del valore che comunque devi stabilire a priori cioè nella fase iniziale che però è meno come dire vincolante sotto certi punti di vista per cui è più facile prevederlo magari con la lettera delle modifiche sui servizi o forniture che non hanno queste infatti i servizi e le forniture sono molto più delicati perché proprio per esempio sulla lettera E una cosa parlava un consigliere di Stato proprio sull'argomento della lettera E diceva che sì il far rientrare dalla finestra il vecchio 5% il 10% del famoso 132 comma re della vecchia 163 per i lavori va abbastanza bene per i servizi e le forniture diceva bisogna starci molto attenti perché fra le casistiche del comma 4 sulle modifiche sostanziali c'è scritto che non si deve spostare molto l'equilibrio a favore dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e questo consigliere diceva mentre nel caso dei lavori diciamo i ribassi cioè quando te aggiudichi una procedura non la aggiudichi per i centesimi del ribasso come può avvenire nei servizi dove te quello ha fatto il 20,1 quell'altro il 20,05 dove hai un margine molto ristretto di differenza tra i vari aggiudicatari diceva se te mi metti una lettera e dove faccio un 15 un 20% di incremento contrattuale dice un buon avvocato di quello che è arrivato secondo e che ha perso per il centesimo ti potrebbe eventualmente impallinare su quell'aspetto del comma 4 di certi esposti andando a modificare sensibilmente l'importo contrattuale di un 20% così avendo dei ribassi di differenza minimi ti potrebbe andare a dire guarda te hai spostato a favore dell'aggiudicatario l'equilibrio del contratto secondo come lo fai e quindi potrebbe essere più rischioso nel caso di servizi mi parlava per esempio servizi di pulizie dove sono molto agguerrite le gare ma è fatto bene diciamo questa cosa perché ricordare questo aspetto perché poi soprattutto nei contratti pluriennali come sono i contratti di concessione contratti di partenariato pubblico privato il concetto di non consentire che l'equilibrio economico finanziario possa essere alterato a favore del concessionario vale soprattutto in queste fatti specie proprio c'è una norma specifica del codice che stabilisce che comunque le modifiche non devono comportare un vantaggio a favore del concessionario quindi anche quello in qualche modo è la luce quindi nella parte il rischio che bisogna trasferire a prescindere dalle modifiche deve sempre rimanere il trasferimento del rischio e quindi le modifiche in qualche maniera non devono essere un escamodage per eliminare questo rischio o ridurlo rispetto all'originaria impostazione contrattuale e l'altro l'equilibrio economico finanziario che è un po' diciamo l'aspetto speculare l'altro aspetto diciamo del trasferimento del rischio che ugualmente è un equilibrio che viene stigmatizzato attraverso degli indici e come tali devono rimanere anche attraverso le modifiche però ritornando all'attivo 175 la lettera nel caso delle concessioni se voi andate a leggere è meno incisiva è meno descrittiva e meno impregnante rispetto alla medesima lettera dell'articolo 106 perché ovviamente ripeto il legislatore è cosciente che qui si tratta di contratti di lunga durata e dove le modifiche possono essere in qualche maniera apportate allora la lettera diciamo non entra tanto nel merito diciamo di come determinare il valore di queste eventuali modifiche come per esempio dice la lettera dell'articolo 106 che per i lavori dice si può fare riferimento ai preziari eccetera eccetera qui lascia forse rifacendosi un po' all'articolo 165 mi pare del codice lascia la libertà la discrezionale dell'amministrazione di regolamentare diciamo questa fase di modifiche previste già inizialmente nei bandi di gara ma c'è una maggiore diciamo flessibilità e maggiore discrezionalità salvo un punto però e questo è imprescindibile che è una cosa che non a caso il legislatore ha voluto inserire salvo che comunque che tutte queste modifiche previste da lettera inizialmente in bandi chiari precise eccetera non devono comunque in ogni caso comportare una proroga della durata della concessione che a mio avviso non stiamo parlando che la proroga tecnica c'è quella proroga necessaria prevista dal comma 11 dell'articolo 106 necessaria per espletare la procedura di gara per affidare a un nuovo soggetto diciamo ma stiamo parlando proprio della proroga come strumento di riequilibrio che è necessario per ristabilire appunto quell'equilibrio economico-finanziario che può essere alterato da queste modifiche quindi il legislatore ci sta dicendo a differenza del passato se applica l'articolo 175 fa ricorso alla lettera hai una concessione che devi modificare perché l'avevi già previsto considera comunque che quello che non puoi toccare è il termine finale di conclusione del contratto quello non è un elemento su cui si può basare riequilibrio cioè siccome in questi contratti non ci sono teoricamente diciamo contratti esecuzioni svolte per conto e con risorse private non dovrebbero esserci diciamo erogazioni da parte della pubblica amministrazione salvo diciamo quel contributo previsto dalla norma stessa però nulla toglie che laddove io introduco fin dall'inizio la prevedibilità cioè il fatto che posso variare quel contratto posso anche decidere di pagarlo a parte e quindi non farlo entrare all'interno del meccanismo di riequilibrio o perlomeno diciamo il riequilibrio lo si determina attraverso un pagamento diretto della pubblica amministrazione per quelle prestazioni aggiuntive già previste inizialmente che quindi non mi comportano diciamo modalità di ristabilire l'equilibrio attraverso l'eventuale prolungamento del termine di scadenza della concessione o del contratto di parte mediata ecco la lettera esclude in maniera più tassativa il fatto che si possa ricordare alla prologa come elemento per ristabilire l'equilibrio economico finanziario la lettera B invece sempre l'articolo 175 anche in questi casi come dicevo prima lavori per lavoro servizi supplementari non inclusi nella concessione iniziale dove risulti impraticabili un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici quindi se si dimostra che non è possibile cambiare il concessionario perché l'eventuale modifica per sostituzione comporterebbe degli oneri maggiori questo potrebbe essere un titolo per consentire diciamo di modificare il contratto sempre con riferimento all'articolo 175 le modifiche imposte da circostanze le modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria dirigenza e comunque inidonea ad alterare la natura generale della concessione qui non si parla diciamo di modifica sostanziale parla più di alterare la natura generale della concessione anche l'uso i termini usati volutamente più generici rispetto ai corrispondenti articoli sugli appalti ci indica diciamo su questo anche una maggiore flessibilità nell'uso di questo strumento però che incontra ripeto non mi stancherò mai di ripeterlo che incontra dei limiti in quel prerequisito che dicevo prima che è il trasferimento del rischio in capo al soggetto privato rischio di costruzione e rischio di domanda quindi tutte queste modifiche in qualche maniera incontrano un limite naturale quindi che può essere tranquillamente il cui superamento può essere tranquillamente contestato da qualsiasi soggetto che comunque abbia un interesse nel mantenere in capo al soggetto privato il rischio di costruzione e o del caso di domanda e o di disponibilità ugualmente troviamo la sostituzione del concessionario originale a causa delle circostanze di quattro 175 comma 1 lettera D e cioè se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appartante aveva inizialmente giudicato la concessione perché c'era una clausola espressa che lo prevedeva fin dall'inizio nei bandi e nei documenti di gara che sono stati predisposti perché al concessionario iniziale succede anche qui guardate l'uso diverso nel ricorso a una terminologia diversa al concessionario iniziale succede in via universale o particolare a seguito di ristrutturazioni societarie comprese rilevazione fusione acquisizione e risolverze un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali a contratto e non sia finalizzata deludere l'applicazione del presente codice fatta salva dall'autorizzazione del concedente o per richiesta sulla base di una nuova ok quindi per quanto vedete qui usa il termine che al concessionario iniziale succede in via universale o particolare se vediamo la corrispondente norma dell'articolo 106 non usa questo termine ma parla proprio specificatamente mi pare di caso in cui al concessionario iniziale subentra un altro soggetto a causa di precise circostanze cioè o per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie invece diciamo la corrispondente comma dell'articolo 175 usa una terminologia molto più generale e poi nel caso in cui la stazione lente concedente qui la norma usa ancora la stazione appaltante per il più giusto dire lente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori e poi anche qui arriviamo alla lettera E diciamo l'impostazione è similare però poi abbiamo visto le modifiche ci sono tra l'uno e l'altro riferimento e la lettera E ci dice le modifiche non sostanziali che comunque inidone ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto al senso dell'articolo 175,7 ora gli elementi quindi stiamo parlando di modifiche anche qui che a prescindere dal loro valore non sono comunque ritenute sostanziali come secondo la definizione contenuta appunto al comma 7 dello stesso artico 175 in questo caso si tratta di stabilire appunto è vero che qui c'è una maggiore discrezionalità che viene trasferita all'ente concedente perché stabilire quando è considerevole un'alterazione di un contratto nei contratti che ha continuato pubblico privato adesso lo vedremo mi viene da dire che non può essere lasciato a un giudizio puramente come dire emotivo del soggetto ma bisogna individuare dei meccanismi tecnici che consentono di e quindi sempre per riferimento all'articolo 175 le modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35 e al di sotto del 10% del valore della concessione quindi la lettera F mi consente di apportare modifiche di qualsiasi natura e sempre mantenendo diciamo la barra come dire dritta nel senso che questo significa trasformare una concessione un apparto perché la caratteristica deve sempre rimanere se il valore è inferiore a 5.250.000 euro e comunque si sta al di sotto come modifica del 10% del valore della concessione questi sono questi sono i casi in cui praticamente è possibile prevedere ma anche l'attivo 175 interviene sulla parte relativa alle varianti in corso d'opera perché può succedere che anche in corso di esecuzione prima che si collaudi l'opera e quindi inizi la fase di gestione possono esserci la necessità di ricorrere delle variazioni dei lavori in corso di esecuzione in questo caso dice che l'esecuzione dei lavori conseguente a una variazione è subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Infrastruttura e del Trasporto di cui l'articolo 111 comma 1 del codice quindi la variante in corso d'opera nei contratti di concessione deve comportare anche l'approvazione del relativo progetto ai sensi dell'articolo 111 comma 1 del codice l'articolo 101 comma 1 del codice che io adesso rileggo ci dice il famoso decreto del MIT del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale sono approvate le linee guida attraverso le quali il direttore dei lavori esercita l'attività di controllo eccetera ecco questo riferimento al decreto comporta anche che è competenza del direttore dei lavori verificare il progetto di variante se il progetto di variante quindi può essere approvato oppure meno quindi il riferimento all'articolo 111 a comma 1 ci aiuta a capire che la variante in corso d'opera nei contratti di concessione di parteneria al pubblico privato richiede comunque una relazione di un progetto che sia approvato poi dall'ente concedente l'erogazione dei servizi di cui a comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del concedente del rio progetto quindi questo principio che posso procedere alle varianti in corso d'opera vale sia nel caso dei lavori che nel caso dei servizi cioè posso procedere all'approvazione della variante in corso d'opera laddove ho anche approvato un relativo progetto di variante in caso di varianti in corso d'opera qui diciamo per la determinazione dei costi di lavori la letteratura specialistica invita a utilizzare la procedura del value testing cosa diversa ovviamente quando si dice fare riferimento ai prezzari perché in questo caso diciamo si può proprio perché ampia più ampia la discrezionalità consentire all'ente concedente di chiedere dei preventivi o farsi chiedere farsi mandare dal concessionario un preventivo e confrontarlo con almeno due preventivi richiesti dal concedente a operatori qui bollenti sul mercato il valore dei lavori da riconoscere dal concessionario non può in ogni caso superare il valore della media dei preventivi questo è un metodo che viene utilizzato nei contratti di pertenimento pubblico privato recentemente è stato autorizzato per alcuni siti ospedalieri e diciamo è una modalità che consente di determinare il valore della variante in corso d'opera sia per quanto riguarda i lavori e anche per quanto riguarda i servizi quindi ricorso alla procedura del value testing in tutti i casi in cui è necessario dare un valore l'eventuale aumento di valore determinato da uno a più modifiche non può in ogni caso eccetera complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale il superamento dalle limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione cosa c'è dentro quel 50% su cui ci sta facendo mal a dannare l'esistenza anche perché è disciplinato in maniera diversa rispetto alle varianti e quindi posso diciamo dire che da dove nasce grosso modo era il famoso 50% dei lavori complementari previsti dal 207 dove diceva che comunque nel 50% devi ricomprendere anche le modifiche a parte fino a quel momento perché sennò diventa come la moltiplicazione dei panni e dei pisci cioè valori successivi le modifiche successive stanno sempre dentro il limite del 50% però di fatto mi stanno snaturando e raddoppiando il valore del contratto e quindi qui la norma dice 50% considerando al netto di tutte le modifiche già intervenute ecco sugli appalti siccome uno deve sul 106 invece una delle domande lì parla che le modifiche successive devono il 50% lo fai sulle modifiche precedenti quindi uno si diverte a riprendere un po' le riminiscenze di analisi matematica dei limiti e io l'ho provato a fare perché se io faccio una prima variante del 50% io potrei teoricamente fare una variante successiva che è al 50% di quel 50% che è il 25% poi se ho ancora degli imprevisti posso arrivare al 50% della variante precedente che era del 25% e quindi diventa 12,5% alla fine dei conti se uno fa il limite tendente a infinito va al raddoppio cioè ridiventa un altro 50% in pratica va al raddoppio dell'importo contrattuale è ovvio che questo è nel limite se la prima la variante la facesse il 50% se uno la prima variante la fa del 30% poi diventa il 15% poi il 7,5% poi il 3,75% non può essere diciamo che la variante del 50% è il limite massimo ecco le varianti successive io ho fatto una variante del 30% se l'importo era 100% adesso la successiva variante deve essere fatta su 70% cioè 100-30% e quindi su 70% me la devi calcolare non che me la calcoli sempre su 100% era questo il concetto no, non la puoi calcolare infatti se ti fa una variante del 30% la variante successiva la fai il 50% il limite è il 50% di quel 30% io la vedo come me diciamo e quindi diventerebbe il 15% quindi diventa e alla fine dei conti quel 30% se io ho fatto la prima del 30% diventerebbe apposta perché dice determinato da una o più modifiche non può quindi cumulate io lo recco così quindi cumulate non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale quindi fatto 100 ho fatto il contatto diciamo nel caso degli appalti è diverso nel caso della concessione fatto 100 io sono non posso arrivare oltre 150 poi puoi fare le modifiche che ti pare però 150 non lo puoi superare ecco questo è il limite nei contratti di apparto invece il problema nasce esatto prende il comma 7 della mia slide dei contratti di apparto quindi come usciamo come indicazione perché a me va facile dare l'indicazione in questo senso come concessione a mio avviso se si fa come le concessioni io sarei sarei dell'opinione sarei dell'opinione che in una regola anche perché ora un conto è la teoria e anche le cose però che uno ci abbia continuamente situazioni impreviste imprevedibili di andare a fare una miriade di varianti successive la vedo anche difficilmente giustificabile io penso che se uno anche negli apparti tenesse il limite complessivo del 50% male io non so se è stato un refuso voluto volontaria perché questo è stato oggetto di grossa discussione però mentre le concessioni che siccome vengono messe sempre alla fine nei codici e quindi si arriva sempre alla feo l'acqua la gola e nessuno ci si sofferma probabilmente la modifica fatta dall'articolo 175 è passata in dolore siccome sul 106 che riguarda le varianti sugli apparti che invece è l'argomento più sostanziale lì non si è riusciti rimane una norma un po' ambigua però il bello è che se leggi l'articolo 72 della direttiva comunitaria quella sugli apparti 24 il comma 7 è il copre e colla della direttiva comunitaria proprio la direttiva comunitaria lo dice non vorrei già proprio a livello di ora io non ho guardato la direttiva 23 quella sulle concessioni che poi probabilmente il 175 è nuovamente un copia e colla dell'articolo quindi può darsi già che anche a livello comunitario la distinzione sempre diciamo da una conclusione perché stiamo quasi ormai arrivati il concessionario risponde di errori ed omissioni di progetto visto che un quesito che era stato posto era siccome il progetto esecutivo le indagini geologiche hanno comportato gli approfondimenti geologici hanno comportato un maggior costo rispetto al progetto definitivo che pure era stato verificato validato e compagnia bella chi si deve caricare questi maggiori costi questo è il caso in cui nel rischio di costruzione ci rientra anche il rischio di progettazione e sarebbe buona cosa che quando si procede con una procedura concorsuale per affidare una concessione o un contratto di partenerale pubblico privato sulla base di un progetto definitivo si richieda un'espressa dichiarazione di accettazione da parte del concorrente dell'attività progettuale svolta ovvero se ci sono diciamo siccome si fa l'aggiudicazione si fa con l'offerta veramente più vantaggiosa e individuare nel bando di cara quale possono essere quelle modalità di accettazione di eventuale modifica al progetto definitivo posto a base di cara tra cui ad esempio potrebbe anche rientrarci laddove l'operatore economico si dovesse rendere conto che le indagini di carattere geologico sono state fatte a un livello diciamo forse troppo superficiali correggimi tu che poi questo sei molto più bravo di me essendo diciamo uno del mestiere potrebbe diciamo ecco farlo presente già in fase di aggiudicazione facendo rilevare questo elemento teoricamente potrebbe già fare l'amministrazione laddove è cosciente che le indagini non sono state chiude a livello approfondito insomma però l'obiettivo è quello di trasferire il rischio di progettazione in capo al soggetto comunque privato il rischio di progettazione è implicito nel concetto di rischio di costruzione e qualora le modifiche questa è l'ultima parte qui concludo a differenza delle varianti il problema è quale misure vada ad adottare per risolvere il problema delle modifiche contrattuali e qui si apre tutto un capitolo che ovviamente farà parte diciamo di un altro seminario di un altro momento diciamo di approfondimento che è quella del riequilibrio economico finanziario perché in questi casi diciamo bisogna consentire il faro ripeto è il trasferimento dei rischi e l'equilibrio economico finanziario stigmatizzato cristallizzato in famosi indici che si chiama il tasso di rendimento del progetto il tasso di rendimento degli azionisti valore attuale netto DSCA inteso come indice di copertura diciamo di rimborso del prestito ecco se si alterano quegli elementi numerici e quindi stiamo parlando di elementi individuabili diciamo dal punto di vista matematico attraverso le modifiche si possono alterare certo il soggetto privato ti dirà che si altera al suo sfavore l'amministrazione invece dovrà verificare che introducendo all'interno del piano economico finanziario questi nuovi elementi di costo determinati dalle modifiche ma che possono anche comportare invece un vantaggio perché non è detto che i costi visto anche che la tecnologia sotto questo punto di vista può aiutare non è detto che i costi sono sempre diciamo a sfavore del concessionario del soggetto privato possono esserci anche dei risparmi in altri settori insomma bisogna lì il piano economico finanziario il momento in cui si individua la modalità di risolvere dal punto di vista economico il problema delle modifiche ai contratti nelle concessioni e ai contratti per tenere al pubblico privato il che presuppone che fatta eccetto il caso A quando la variazione era già prevista il prolungamento non è a priori escluso anche se su questo non ci dimentichiamo che c'è un'indicazione precisa dell'Unione Europea riportata anche nella direttiva 23 che esclude la possibilità di effettuare concessioni di durata troppo lunghe addirittura con un limite di 5 anni eventualmente diciamo che si può superare laddove uno dimostri che è necessario un periodo più lungo e quindi diciamo un periodo tale che non consenta di falsare il mercato e la concorrenza quindi io chiudo per quanto riguarda i quesiti arrivati ho visto alcuni riguardano un progetto finanzi io e l'ingegnere i morali ci riserviamo diciamo di valutarle e su un apposito webinar faremo una specifica diciamo illustrazione delle risposte che cercheremo di dare io per momento vi ringrazio anch'io vi auguro ovviamente buona Pasqua a tutti quanti ringrazio l'ingegnere Andrea i morali ringrazio il rifer non so se volete aggiungere qualcosa è solo un auguro a tutti quanti un buon riposo insomma grazie a presto